Sì, sono soddisfatto innanzitutto della prestazione perché dovevamo dare continuità alla bella gara fatta nell'ultimo dell'anno col Perugia e sapevamo di affrontare una squadra comunque che aveva dei numeri importanti, non solo di classifica ma nel gioco, nelle occasioni, nei gol e quindi oggi dovevamo sfoderare una prestazione sicuramente superlativa, l'abbiamo fatto, all'interno di una partita direi comunque equilibrata sotto l'aspetto della gestione della palla ci sono stati momenti in cui abbiamo preso nel sopravvento, momenti in cui l'ha preso il Pescara però indubbiamente nei 95 minuti abbiamo avuto delle occasioni clamorose credo che alla fine se avessimo portato a casa i tre punti non ci sarebbe stato nulla da dire, ripeto, siamo soddisfatti del pareggio però con un pizzico di buona sorte in più potevamo anche vincerlo Riuscito ad imbrigliare il Pescara, a far tirare due volte i biancazzurri dalla distanza nel primo tempo, a non far tirare mai il Pescara nella ripresa soprattutto avete ingabbiato Brugman che è un po' il faro di questa squadra Noi allenatori cerchiamo di preparare le partite nel miglior modo possibile, abbiamo avuto veramente due settimane in 15 giorni di poter curare un po' tutti gli aspetti poi c'è la capacità e la bravura dei ragazzi di interpretarla, sapevamo quali erano i punti di forza di questo Pescara soprattutto nel centrocampo, che è un centrocampo di categoria superiore e dove davanti ci sono giocatori che sono in un momento di grande entusiasmo, di grande brillantezza dove mettono in difficoltà come sbagli mezza cosa, comunque ti vanno a tirare in porta e quindi merito non solo della difesa ma di tutta la squadra con grande equilibrio, con grande compattezza e abbiamo costretto il Pescara a giocare delle palle sporche e quindi siamo stati facilitati L'infortunio di ieri di Antonucci ha fatto scegliere a pillone la soluzione con Machine alto nel tridente offensivo Machine che ha prodotto poco dal punto di vista della produzione in quel ruolo lì, grazie alla compattezza di una Salernitana Forse aveva illuso la poca compattezza della Salernitana nell'ultima di campionata Ma è indubbio che quando poi accadono degli imprevisti all'ultimo istante per un allenatore è sempre un problema perché devi comunque trovare una soluzione immediata ma nello stesso tempo magari hai preparato la partita con delle caratteristiche con dei movimenti particolari dove magari Antonucci è molto bravo e dove magari Machine è un po' più adattato quindi sicuramente da questo punto di vista sono due caratteristiche diverse però credo che ripeto la nostra compattezza, il nostro equilibrio, il nostro essere molto stretti tra le linee una squadra che era comunque racchiusa in 20-25 metri naturalmente credo l'avremo comunque contenuto però sappiamo che Antonucci per questo Pescara è un giocatore importante Rastelli, alla luce della più che buona prova di questa sera, degli arrivi che ci sono stati negli ultimi giorni nelle ultime settimane e di quello che la società sul mercato farà nelle prossime settimane la Cremonese è destinata a giocare un girone di ritorno sicuramente diverso parlo di risultati rispetto a quello dell'andata Io me lo auguro perché è normale che siamo un po' attardati per quello che è comunque il nostro obiettivo finale però siamo anche realisti nel pensare che è un campionato molto insidioso perché nel giro di 4-5 punti vai ai playoff e nello stesso tempo puoi essere risucchiato nelle zone calde della classifica quindi bisogna vivere alla giornata, pensare che ogni gara va giocata soprattutto che qualsiasi risultato è alla portata abbiamo visto anche tra l'anticipo di venerdì e oggi ci sono stati comunque dei risultati clamorosi e questa dimostrazione ancora di più di questo campionato equilibrato noi cerchiamo, ripeto, di vivere alla giornata partita dopo partita mi auguro di riuscire al di là di quelli che poi arriveranno di risalire piano piano la classifica e fare un po' quello al contrario di quello che è successo alla Cremonese l'anno scorso dopo un grande girone di ritorno è rischiato poi nel finale di campionato Ne chiedo un'ultima cosa, Rastelli non ha peli sulla lingua nelle zone altissime della classifica, Palermo, Brescia, Pescara, chi preferisce lei? Ma guarda, tutte quelle che in questo momento sono lassù lo meritano lo stesso Pescara ha dimostrato di essere una squadra che gioca un bel calcio di essere sicuramente una squadra con delle idee e anche, credo, in questo momento, almeno fino ad oggi una mentalità sbarazzina, quindi molto leggeri io credo che se questa squadra riesca a mantenere questa leggerezza e quindi senza grandi pressioni possa arrivare fino alla fine a giocarsi la Serie A Rastelli, tornando al mercato, Carretta resterà la Cremonese e partirà le faccio questa domanda perché i rumors di mercato parlano di un interessamento del Pescara proprio per Carretta, le chiedo se il giocatore è sul mercato Ripeto, per me in questo momento alleno tutti quelli che ho a disposizione Le hanno detto i suoi dirigenti che Carretta potrebbe partire? No, assolutamente poi se sappiamo le dinamiche di mercato se ci dovessero essere delle richieste particolari le prenderemo in considerazione in questo momento Carretta è un giocatore al 100% della Cremonese Grazie